Buonasera a tutti e tutte, direi che possiamo iniziare. Buonasera, tocca a me questo ruolo che assumo molto volentieri della brava presentatrice e quindi non porto via troppo tempo ai nostri relatori che non hanno bisogno di presentazioni, ma come segno dovuto di cortesia, il professor Scarpari è autore di moltissimi studi sulla Cina classica, il confucianesimo, il ritorno a Confucio, il ritorno a Confucio in realtà non è la Cina classica, il taoismo insieme al professor Andreini, e è stato direttore della serie dedicata alla Cina delle grandi opere di Einaudi e è autore di questo testo freschissimo di stampa che è La Cina al centro e in qualche modo coniuga la Cina classica e ad alcuni valori e ad alcuni concetti della Cina classica con la narrazione politica attuale, con la teoria di Xi Jinping che vuole raccontare bene la storia o le storie della Cina e quindi in questo senso ci offre uno spaccato interessante e stimolante di come la tradizione interagisca con la Cina di oggi, con la Cina contemporanea in modo diretto o forzato dall'opportunità politica del momento. Attilio Andreini è autore di un testo su Sun Tzu, quindi è l'esperto in particolare del protagonista della nostra chiacchierata di questa sera e si è occupato però anche di taoismo, ha tradotto dal Tao Te Ching, di Lao Tzu e si occupa sostanzialmente di filologia classica e di studio del pensiero cinese della Cina, direi tutto sommato pre-Han, quindi della Cina prima dell'unificazione dell'impero. Io lascerei senz'altro la parola ai nostri interlocutori anche perché credo che dobbiamo stare attenti ai tempi e direi di cominciare con la parte più collegata, più concentrata sulla classicità, quindi chiederei al professor Andreini di ragionare insieme a voi o per voi sulla dicotomia o su questa sorta di pensiero binario che attraversa la storia della Cina dalle origini del pensiero fino ad oggi e quindi questa dicotomia dei concetti di Wang e Wu piuttosto che di Qi e Zheng, questa contrapposizione, se contrapposizione è, perché forse non lo è, tra regno della parola e della cultura e regno delle armi per così dire. Prego Attilio, grazie. Grazie Stefania, grazie agli organizzatori di questo evento, grazie ai presenti. Io vorrei iniziare con una citazione, una citazione che già apre uno squarcio sostanzialmente di luce, è chiaro riguardo alla centralità del tema della guerra e dell'uso delle armi nella cultura cinese, a partire dalla cultura cinese antica. C'è un testo che si presume sia stato compilato intorno al IV-III secolo a.C., un testo di cui non si parla spesso, che è lo Hguanz, che così recita in uno dei capitoli dedicati proprio all'arte militare. Il Tau risponde a principi numerologici, predittivi e costanti, cosicché le divinità luminose e perspicaci possano essere messe in condizione di interagire. Le cose rispondono a rapporti di reciproca conquista, cosicché acqua e fuoco possono essere impiegati debitamente. Qui sono est, ovest, sud e nord, cosicché il rapporto tra forme e nomi possa essere attendibile. Quando regnarono prima i cinque augusti imperatori della più remota antichità e poi i tre sovrani delle dinastie Xia, Shang e Zhou, la somma virtù già era decaduta. Armi e conoscenza insieme sorsero. Questo, secondo me, è un punto nodale che evidenzia come, in sostanza, mi viene in mente Kubrick, e l'ominide che prende il suo osso e comincia a colpire, e comincia a creare, e comincia a istituire questo atto di civiltà che è indissolubilmente legato ad un atto di violenza. E così è, nel senso, questo è semplicemente un esempio che evidenzia come l'articolazione del discorso sulla guerra a partire dagli sviluppi più remoti della civiltà cinese non possa non costituire un tema che in qualche modo occupa uno spazio rilevantissimo. Occupa uno spazio rilevantissimo al di là di quelli che sono quei testi, diciamo così, che corrispondono ad un canone alternativo rispetto ai molti canoni buddhisti, taoisti e confuciani che si sono nel tempo consolidati nel corso della civiltà cinese. Cioè un canone di sette opere militari che effettivamente hanno costituito da sempre un punto di riferimento imprescindibile non solo per i generali, per gli uomini d'arme ma anche, diciamo, di soppiatto e segretamente sono stati ampiamente consultati, citati, studiati e da essi molti uomini politici e intellettuali hanno tratto ispirazione. Ovviamente questo canone parallelo che è il canone dei testi militari che ha nel Sun Zepin Fa, nell'arte della guerra del maestro Sun, Sun Wu il suo, diciamo così, nucleo centrale. Però questi testi, in tutto sette che gradualmente si sono accorpati hanno costituito questo corpus erano a metà fra un corpus, diciamo così, terroristico, minaccioso che rischiava effettivamente di far saltare le fondamenta dell'impero e dall'altra però era da sempre un elemento imprescindibile nella costruzione, diciamo, della personalità non solo del condottiero ma anche dell'uomo di cultura. Ora, il pensiero cinese diciamo che in maniera inestricabile vede una convergenza tra questi due elementi di cui la professoressa Stafutti parlava cioè la componente, diciamo così quella civica e civile fondata sull'apprendimento di norme cerimoniali, culturali che concorrevano ad accrescere il processo, diciamo, di affinamento e di autocoltivazione del soggetto cui faceva da controparte un elemento antagonista ma come avviene nel dualismo così familiare diciamo negli orizzonti speculativi cinesi opposto ma complementare contraddistinto dalla dimensione U cioè dalla dimensione cosiddetta marziale, militare che in realtà non va vista solo ed esclusivamente come una condizione che definisce quello spettro limitatamente ristretto all'ambito della guerra la guerra si muove e percorre le attività umane sotto tanti punti di vista la guerra talora è concretamente espletata sul campo di battaglia ma ogni forma di conflitto laddove è necessaria un'affermazione diciamo così assertiva che passi attraverso un potenziamento di quegli aspetti legati all'affermazione della propria dignità al ripristino dell'ordine ecco tutte queste configurazioni rientrano diciamo così nella dimensione U emblematicamente questa parola che esprime questa valenza è rappresentata da un elemento grafico che ripropone una un'alabarda un'arma e dall'altra ha come elemento complementare grafico un segno che corrisponde a una parola di per sé che significa fermarsi l'interpretazione che poi può essere pseudo totale oppure diciamo su questo c'è tanto da dire prevede che appunto per una per una curiosa ma fino a un certo punto così paradossale interpretazione la celebrazione dell'elemento marziale avvenga attraverso il fermare bloccare quello che è l'uso delle armi e questa è una tendenza che noi riscopriamo molto spesso nella attraverso la lettura di questo canone militare dove effettivamente la celebrazione massima ultima l'ultimo approdo diciamo dell'esercizio dell'arte della guerra coincide con il convincere il proprio avversario a non affrontare l'incognita e il rischio di incrociare le armi effettivamente questa insistenza con la quale non solo nel Sun Zepin Fa e il Sun Zepin Fa è un testo che noi possiamo datare intorno al anche esso quarto terzo secolo avanti Cristo non solo nel Sun Zepin Fa viene viene così tanto così tanto enfatizzata ma anche in numerosi altri testi che compongono questo questo canone alternativo costituito da questi testi da questi sette testi militari però lo ritroviamo anche in tanti altri testi questo senso paradossale di manifestazione della propria alta e somma potenza che si realizza attraverso una mancata espressione della stessa il modo tale da portare il proprio avversario ad essere convinto che non conviene diciamo così incrociare le armi sommo principio che regola i Sun Zepin Fa in primis e poi anche che caratterizza numerosi altri testi di questo canone militare è il principio che vuole la guerra essere l'arte somma della dissimulazione questo tipo di questo tipo di affermazione innesca anche un diciamo così un cortocircuito logico che fa sì che come ricaduta progressiva nell'ambito di questa di questa di questo progetto esplicativo di pianificazione della guerra intervengano degli elementi che effettivamente fanno saltare le categorie che potremmo comunemente associare al successo alla forza alla capacità di affermarsi sul campo di battaglia ad esempio legata a questo senso di guerra come arte della dissimulazione e della simulazione e dell'artificio il Sun Zepin Fa opera una una profonda un profondo sradicamento del senso proprio di determinati termini come ad esempio quello di ortodosso e non ortodosso quello di come dire di formale e strutturato versus informe proprio per evidenziare come in sostanza in questo gioco di scambio di posizioni e di offuscamento di quelli che sono i punti di riferimento che si devono come dire si devono confondere in modo tale da portare il proprio avversario a non avere più alcun alcuna a non poggiare più i piedi su un terreno saldo e di sprofondare le sabbie mobili ecco che nessun Zepin Fase ha questa esaltazione di ciò che è destrutturato cioè l'esercito più efficace è quell'esercito che non assume una forma prestabilita che sa adattarsi compiutamente completamente a quelle che sono i vantaggi arrecati da un adeguamento a quelle che sono le strutture morfologiche del terreno di battaglia a quel punto quindi si ha uno scambio costante reciproco tra quelle che sono le strategie ortodosse o non ortodosse per conseguire il fine ultimo qual è il fine ultimo vincere e soprattutto vincere in un tempo breve questo è un punto saliente che emerge soprattutto del Sun Tzu e Pin Fa dove ad esempio le campagne militari che si fondano su un assedio pressante costante nei confronti del nemico vengono diciamo così scoraggiate a favore invece di un costante richiamo che questa figura ovviamente è una figura a metà fra fra il mitologico e il concreto e lo storico Sun Tzu appunto il maestro Sun cerca di persuadere i suoi seguaci a non insistere diciamo così in un attacco perché col perdurare delle operazioni belliche si rischia di incorrere in un dispendio di energie e di risorse che potrebbero portare al collasso l'esercito che in qualche modo muove la sua offensiva questo tipo di ovviamente il Sun Tzu Pinfà ha costituito una sorta di canone all'interno del canone diciamo che è un testo estremamente succinto breve perché insomma sono appena 6.000 parole divise in 13 capitoli nei quali la descrizione della guerra passa attraverso delle categorizzazioni che non sono proprie della guerra nel senso che in alcuni punti la guerra viene quasi sublimata e vengono chiamati in causa forze della natura l'acqua ad esempio come elemento naturale magistralmente informe che quindi rappresenta al meglio quella tipicità quella caratterizzazione che l'esercito dovrebbe assumere in quanto informe no e questo questo tipo all'esempio di celebrazione questo gioco costante come vi dicevo prima di vuoto e di pieno di realtà e di finzione di misure ortodosse misure non ortodosse da adottare a mio avviso richiamano molti concetti che sono altrove nella letteratura cinese classica altrove ampiamente approfonditi come ad esempio nell'Auz anche nell'Auz si assiste questa paradossale affermazione secondo cui il condottiero veramente veramente vittorioso non non scende sul capo di battaglia perché non ha bisogno di esibire la sua forza e d'altra parte non sarebbe forza vera se questa sua forza si esprimesse perché la vera forza non ha necessità di esprimere pienamente se stessa quindi anche anche questo gioco di ribaltamento del peso di ciò che è in forme ciò che è vuoto ciò che è apparentemente scoperto sguarnito diciamo che il Sun Tzu Pinfassi si colora di tutta una serie di acquisizioni metaforiche che sono tipiche del pensiero cinese io ero abbastanza riluttante quando ho avuto l'incarico diciamo di tradurlo perché mi sembrava un testo come dire che soffocasse nello specialismo e nel tecnicismo poi mi sono dovuto ricredere è un testo che ha una profonda vena filosofica cosmologica e quindi questo ci fa anche pensare come attraverso questo testo si riesca a in qualche modo digerire assorbire la drammaticità della guerra in un contesto di necessità politica e anche cosmica grazie a Silvio riprendo uno dei temi affascinanti del Sun Zepin Fa che è questo dell'arte della dissimulazione e cito un brano dal testo di Scappari ve lo leggo la guerra è arte della dissimulazione pertanto cela la tua abilità mostrandoti inetto sei pronto ma mostrati impreparato e se sei vicino dai l'impressione di stare lontano e viceversa se i tuoi nemici sono avidi di profitto tentali quando il disordine prevale tra i loro ranghi soggiogali se mostrano compattezza predisponiti ad affrontarli se sono troppo forti evitali se sono i racconti stuzzicali se sono umili alimenta nella presunzione quando le truppe sono riposate sfiniscile adoperati per sciogliere alleanze a te contrarie attacca quando i tuoi nemici non sono pronti ed esce allo scoperto cogliendoli di sorpresa questi principi non vanno rivelati ecco la dissimulazione poiché è da essi che dipende il successo dello stratega prendo questo passaggio sia perché diciamo mi consente un collegamento sia perché il professor Carpari afferma l'attualità di questo passo è sconcertante devo dire sono assolutamente assolutamente d'accordo quindi chiederei quindi al professor Carpari di motivare questa sua affermazione anche per il pubblico che eventualmente non abbia ancora avuto occasione di leggere il suo libro e collegandolo anche a quando lui ci racconta intorno alla diciamo alle nuove rielaborazioni di politologi e studiosi del pensiero cinese cito tra i tanti Yen Shuetong che il professor Scarpari cita ampiamente laddove facendo riferimento alla tradizione cinese si vuole legittimare la diciamo nascita di un ordine mondiale basata su valori diversi da quelli ai quali noi siamo diciamo così affezionati per semplificare grazie ricollego a quello che rispondo ricollegandomi a quello che è stato l'ultima parte dell'intervento del professor Andreini il Sunz è un testo universale quello che non è detto è che è un testo altamente politico esattamente come lo è Lauz ed esattamente come lo è un testo come lo Han Feiz che sono testi che in genere vengono sono meno noti al pubblico perché ci concentriamo sempre sui testi confuciani taoisti perché sono ovviamente le forme di pensiero più come dire importanti ma queste questi testi in realtà denotano cioè hanno contribuito a formare il pensiero cinese nel corso dei millenni fino ad oggi in modo estremamente caratterizzante tant'è che oggi secondo me un cinese politico ragiona esattamente nei termini che ha descritto Andreini e a corroborare questa mia affermazione lo farò in due modi cerco di essere breve perché come ho sentito oggi nel posto Squarcini dire sono faccende complicate è una vera espressione che mi è piaciuta e tra l'altro quello che dirò nella seconda parte è collegato a tutto l'intervento che ha fatto questo Squarcini ed è come dire la punta estrema nel suo andare verso l'oriente e io vado verso l'estremo oriente ma esattamente con il discorso che faceva lui oggi nel suo intervento con cui è iniziato il pomeriggio come ricorderete alla fine degli anni 70 inizio degli anni 80 la Cina si è aperta dopo la morte di Mao e gli Stati Uniti grazie a Kissinger adesso non sto a raccontare tutta la storia che viene ripresa nel libro perché è una storia che un po' si dimentica all'epoca era radicato il pensiero che se si aiutava la Cina a progredire economicamente automaticamente magicamente si sarebbero create le condizioni per sviluppare libertà e forme anche magari non complete ma insomma comunque evidenti di democrazia io ho riportato le dichiarazioni dei presidenti americani sia di repubblicani sia democratici che al congresso giustificavano in questo modo con queste parole le richieste di intervento economico con cui volevano in qualche modo intervenire nell'aiutare la Cina e che erano convinti che quindi la Cina andasse aiutata nel 2015 Michael Pillsbury che è stato uno dei consiglieri di numerosi presidenti ha lavorato per 40 anni a Casa Bianca diciamo come consigliere esperto della Cina e soprattutto poi con l'apparato militare è uscito con un libro che si chiama La Maratona dei Cent'anni sono i cent'anni della questa espressione fa riferimento ai cent'anni dell'umiliazione nazionale come la chiamano i cinesi cioè il periodo che va dalle guerre dell'oppio quando le potenze imperialiste occidentali e il Giappone sono entrate in Cina fino al 49 anno della fondazione politica popolare cinese in cui la Cina è stata fortemente umiliata e ha vissuto questo momento c'è stato un novecento difficilissimo quello dei cinesi e oggi rivendica finalmente la fine con Xi Jinping stato proprio ufficializzato che è finito quel periodo e nel sottotitolo però dice la strategia segreta della Cina per impiazzare l'America come superpotenza globale cioè alla fine Michael Pinsbury che poi ha diretto anche uno dei centri di ricerca più importanti in America negli Stati Uniti alla fine della sua carriera dice ci hanno fregato ci hanno ingannato ci sentiamo traditi e tutto questo libro è incentrato su dimostrare attraverso i classici militari della strategia perché noi li chiamiamo militari ma in realtà non sono testi militari sono testi di strategia testi di strategia di cui il Sunza è il principale il più noto eccetera ma anche della vita cioè di come ci si dovrebbe comportare in modo strategico infatti io li chiamerei più del conflitto eccetera più che proprio della guerra e lui spiega ci mette un libro per spiegare questa cosa fa tutti i riferimenti classici a questa cosa e quindi è interessante perché in qualche modo spiega come secondo lui fin dall'inizio dell'apertura i cinesi avevano chiaro dove sarebbero arrivati alla competizione strategica come si dice adesso tra Stati Uniti di Cina per la leadership mondiale l'avevano già calcolata questa cosa quindi la loro modestia la tesi di Teng Xiaoping di avere un profilo basso posizione che è terminata con Xi Jinping quale ha detto basta profilo basso adesso abbiamo la forza per guardare negli occhi i nostri competitors eccetera ecco ora forse è un po' una forzatura questa tesi devo dire che Trump l'ha presa in modo estremamente serio seria e infatti ha come dire cambiato la politica di Obama che era quella della concertazione in una politica molto più dura dei Dazi perché si è reso conto che alla fine era cioè convinto che effettivamente i cinesi avessero messo gli Stati Uniti nel sacco questo è un aspetto e quindi ecco che l'importanza voglio dire emerge preponderante nella Cina di oggi l'altro aspetto che vorrei toccare è il sottotitolo di questo libro la Cina al centro è ideologia imperiale e disordine mondiale ed ecco che qui mi collego con la lezione di oggi del professor Squarcini come tutti sapete la Cina ha avuto un periodo imperiale il più lungo in assoluto per l'intera umanità perché è durato più di 2000 anni alti e bassi divisione riunione quello che volete eccetera però insomma è durato fino all'inizio del novecento quando è stata fondata è caduto l'impero ed è stata fondata nel 1912 la repubblica di Cina qual era l'ideologia imperiale? noi abbiamo sempre studiato che l'ideologia imperiale era sostanzialmente una reinterpretazione del confucianesimo nel periodo della seconda dinastia in epoca Han la prima dinastia quella dei Qin che nel 221 a.C. aveva fondato l'impero si basava su tutto un altro sistema di pensiero per brevità e solo per convenzione lo chiamo pensiero legista ma in realtà non si usa più questo termine ma sarebbe una cosa accademica una faccenda complicata che lasciamo perdere e diciamo sono statisti i teorici dello stato dominante su tutto e dello stato autocratico accentratore il primo imperatore è grazie a queste dottrine che conquisterà la supremazia di tutta la Cina e fonderà un impero che con tutti gli accorgimenti gli aggiornamenti del caso è durato fino al 1911 e ovviamente la sua come spesso accade la sua operazione è stata è passata la storia come una operazione tirannica la sua dinastia finirà brevemente era troppo difficile mettere insieme tutte queste culture e queste popolazioni diverse in un sistema estremamente autoritario estremamente rigido regolato in qualsiasi aspetto anche della vita privata e quindi quella dinastia accade fosse tutta da un'altra che durò quattro secoli e che canonizzò la classicità cinese la cinesità quindi diciamo in questo periodo l'opera che aveva iniziato il primo imperatore venne conclusa da un altro grande imperatore che fu il sesto imperatore di questa dinastia l'imperatore Wu è lo stesso Wu di di guerriero di di cui ha parlato il professor Andreini cioè l'aspetto marziale era il suo nome lui è stato un grande combattente lui ha quadruplicato l'estensione dell'impero quindi è stato un grande militare ma al tempo stesso ha sintetizzato la sua opera con Wu che era stato anche un grande promotore delle lettere è stato il fondatore della prima università al mondo immagino perché del 124 avanti Cristo l'accademia l'accademia cinese è stata opera sua in questo periodo abbiamo un'espansione non solo ovviamente territoriale ma anche intellettuale artistico della Cina e da qui la Cina diventerà il faro di tutta la civiltà in Asia orientale cioè tutti i paesi limitrofi vedranno la Cina come il punto di riferimento la cultura cinese resterà nei secoli come dire potremmo fare un parallelo quello che la cultura europea che ha rappresentato per l'occidente la cultura cinese ha rappresentato per l'Asia orientale quindi diventerà una delle civiltà dominanti chi non si adeguava a questa civiltà era considerato barbaro chi non aveva questa cultura era considerato ignorante per cui la cultura la civiltà era quella cinese quindi è stata una costruzione enorme e per fare questa cosa però si è dovuto creare un modello particolare non è stata la semplice confucianizzazione della legge come spesso si dice come spesso si pensa il sistema precedente che era passato con un sistema troppo autocratico troppo tirannico non poteva più essere riproposto perché era impresentabile quindi si è scelto una forma adattata di confucianesimo e soprattutto confucianesimo idealista quello diciamo che era portatore dei valori e degli ideali più alti e che ancora oggi noi troviamo nei discorsi ufficiali dei politici al massimo livello però quello era un sistema inapplicabile non si può governare un continente con la sola virtù il sistema effettivamente dei legisti funzionava meglio e allora questo confucianesimo idealista serve da copertina del sistema precedente l'archeologia ci ha restituito i codici di allora e confrontandoli sostanzialmente sono gli stessi non è cambiato nulla e anche la loro applicazione non era esattamente forse era meno dura di quella della dinastia Qing ma in qualche modo era comunque uno stato l'impero era comunque fortemente autoritario nei confronti della popolazione tutta la struttura gerarchica della popolazione era regolamentata in base a un mix diciamo tra quelli che erano i doveri etici che in qualche modo il confucianesimo andava imponendo e le leggi positive le leggi del codice che venivano comunque applicate sempre laddove quelle etiche non funzionavano per cui si è creato un modello che si è portato dietro questo patrimonio questa cultura di governo che era estremamente autoritaria autocratica tra l'altro tutto l'aspetto dei cosiddetti strateghi tutti questi testi di cui stiamo parlando adesso Sunza eccetera in qualche modo sono molto vicini ai testi dei leggisti anzi in alcuni momenti sembrano quasi sovrapporsi perché appunto era una forma di pensiero questo testo è stato scritto questi testi che abbiamo parlato sono stati scritti in un periodo che è passato la storia come il periodo degli stati combattenti tanto per dirlo non era un periodo di pace il periodo di pace ce ne sono stati molti ma diciamo la guerra è una caratteristica della storia cinese insomma ha caratterizzato la storia cinese vi leggo velocemente un pezzo di questo Hanfeiz che è un testo legista non avrebbe niente a che fare col Sunza di oggi colui che governa il popolo in modo avveduto reprime i delitti prima ancora che questi siano commessi così come il condottiero di un esercito porta la guerra nel cuore dei suoi soldati era quello che diceva prima lui nel suo testo le proibizioni disciplinano quanto intervengono alla radice del male l'armata sconfigge quando il combattimento opera nel cuore dei soldati cioè sta parlando in termini militari quindi la politica e l'arte della politica si mescola con l'arte militare e queste due arti si mescolano con l'arte della invece della virtù portata avanti al confucianesimo si crea una nuova ideologia questa ideologia la faccio breve perché è una faccenda complicata verrà riproposta tutte le volte che divisosi l'impero per tutta una serie di ragioni perché viene invaso eccetera si ricompone serve un modello vincente per rifondare l'autorità del sistema burocratico e di governo che dovrà immaginate l'impero cinese era enorme come la Cina di oggi in alcuni momenti è stato anche un terzo quasi il 50% in più oggi non arriva a 10 milioni di chilometri quadrati è stato un momento in cui è arrivato a 15 milioni di chilometri quadrati cioè quindi estensioni immense e quindi non si poteva fare con la semplice virtù e la buona volontà eccetera bisognava usare sistemi molto molto forti questo sistema è passato alla storia come un sistema che è di governo legista mascherato da confucianesimo o in superficie confuciano ma sotto sotto legista è un camuffamento ebbene la domanda che ci dobbiamo porre oggi che mi sono posto io a cui ho cercato di dare una risposta è ma oggi che abbiamo un sistema esattamente simile a questo anche se il legismo in qualche modo è stato sostituito dal marxismo leninismo e più leninismo nella come dire interpretazione maoista è una riproposizione sotto forme diverse eccetera nuovamente dell'impero dopo una una fase di pausa diciamo dell'impero come spesso è avvenuto nella storia nella storia cinese e se sì il Xi Jinping il suo leader che ormai è diventato uomo solo al comando ne è quindi l'imperatore e allora volendo fare un esercizio è il primo imperatore che ha fondato la Cina e lui sta fondando la nuova Cina o è il secondo imperatore quello che ha in realtà aggiustato tutto il lavoro che ha fatto il primo imperatore e allora in questo caso è Mao che ha fondato nel 49 la Cina moderna e Xi Jinping in qualche modo l'ha riportata fuori dalla povertà in cui si era trovata negli anni 80 eccetera e ha dato nel corso dei suoi primi due mandati e adesso col suo terzo mandato quella statura che la Cina vuole avere per ritornare al centro del mondo al centro del Xi Jinping tutto quello che è sotto il cielo come è sempre stato nella sua concezione e quindi mi sembra di essermi collegato ampiamente con quello che si diceva oggi cioè se posso dire la mia risposta è che c'è qualcosa di simile cioè è una riproposizione quindi io l'ho chiamata infatti ideologia imperiale ci sono alcuni studiosi che cercano di farle rientrare all'interno del confucianesimo con la sua variante più autoritaria al posto del leggismo perché c'è uno studio cinese che lo dice non è bello dire che c'è che è legista quindi chiamiamolo in un altro modo ma è un modo così di dire in sostanza se andiamo alla sostanza è quella e è interessante perché c'è qualcuno che comincia a discutere a livello accademico per il adesso eccetera ma si comincia sempre così se si è arrivato il momento vista questa analogia di eliminare l'ultima cosa che resta presa dall'occidente il marxismo o l'eninismo e sostituirla con chiaramente il leggismo che è produzione autoctona e ovviamente la cosa strategica perché è produzione autoctona in questo modo la Cina ritornerebbe ad avere tutti i suoi valori tutta la sua cultura come elemento fondante della nuova civiltà che vuole costruire del nuovo ordine mondiale di cui ha parlato la professoressa Stafutti che è come dire uno degli obiettivi dichiarati ormai non più come ai tempi che Piersbury denuncia sotto sotto è proprio l'elemento esplicito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti